Inaugurate a Naso nuove strutture sportive. Sentiamo. Il presidente dell'ente nazionale Francesco Reale è il presidente dell'associazione socio-sanitaria Obiettivo Primario Salute, Antonio Reale, che nella struttura sviluppi il progetto Lo Sport Sano e Sicuro, grazie alla collaborazione di numerosi esperti come la dottoressa Viviana Perdichizzi e Viviana Arena e Rosalba Scaffidi per la parte ludica. Si deve alla collaborazione tra pubblico e privato la nascita della struttura e su questa linea l'amministrazione nasitana potrebbe continuare a dotare il comune di altre strutture sportive. Le difficoltà di gestione degli impianti sportivi sono notevoli e insopportabili per gli enti locali, sottolinea l'assessore Massimo Costantino, e quindi è indispensabile avviare delle convenzioni. Particolarmente soddisfatti i vertici dell'entes che per la parte tennistica si sono affidati alla scuola tennis del circolo di Brolo guidata dal direttore tecnico Carmelo Arasi. Si tratta anche di un progetto di salute, ci dice Antonio Reale, legato al tennis che parte da Naso per poi coinvolgere tutte le strutture sportive italiane dell'ENTIS. Insieme agli esperti la struttura di Naso si avvarrà anche di medici nutrizionisti e dietologi. Grazie.